tre medaglie il bilancio dell'italia nella ultima giornata del programma under 20 dei campionati europei novisa 2022 si chiude il programma dei giovani per gli spalisti la medaglia di bronzo il terzo posto qui a poco la cerimonia di premiazione non avete ancora la medaglia al collo di formaleo ma avete l'adrenalina sicuramente di quella che è stata una gara bella in cui sicuramente mi dirà che vi mancherà qualcosa forse una stoccata quella della semifinale con la svizzera però si torna a casa con un bronzo che quanto vale allora la medaglia una medaglia quindi noi la onoriamo un terzo posto e ce lo prendiamo ce lo teniamo stretto però diciamo che potevamo dare molto molto di più in semifinale abbiamo fatto tutti direi degli errori io sulla priorità anche simone enrico hanno hanno lasciato indietro qualcosa però vedendo anche poi tutti gli altri assalti ci lascia la consapevolezza che siamo i più forti e ora resta solo da dimostrarlo abbiamo ancora un'occasione per stare noi quattro uniti e dimostrarlo e ci proveremo con tutte le nostre forze allora vado subito da quell'occasione a quell'occasione con l'altro anziano della squadra enrico piatti che fa un passo avanti manca un mese enrico mega tanto di più insomma quindi forse quella stoccata di cui parlavamo avrete tempo e modo per per riprendervela però intanto quanto vale questo terzo posto considerando che ma voi quanto anziani avete già fatto un po di esperienza internazionale delle cariche assegnano titolo però vi pesa un pochino questo vuoto che c'è stato dal 2020 in avanti sicuramente noi soprattutto io armaleo stiamo in squadra da tanto tempo insieme e ci conosciamo molto bene ma come anche con simone diciamo che la new entry è stato matteo il nostro matteone la nostra arma segreta ci sarà sicuramente da rivedere tutto l'assalto dove aveva sbagliato dove dobbiamo migliorare piano piano stiamo facendo dei piccoli passi avanti se possiamo vederla in questo modo dal punto di vista un po più positivo abbiamo cominciato la prima coppa del mondo settimi la seconda coppa del mondo quinti ora siamo sul podio avendo perso la semifinale con una stoccata vuol dire che stiamo crescendo come squadra e come gruppo in generale e il match analis lo fa il più piccolo è uno che ci sta attento no alla gestione tattica del match attentissimo di sì no no sicuramente allora lui è il nostro jolly quindi ce lo teniamo buono nei momenti un po più critici diciamo e ha fatto un gran bel lavoro sia nell'individuale che a squadre jolly va per ultimo prima simone mancarelli che fa un passo avanti simo diceva Enrico Piatti due prove di coppa del mondo senza podio il podio oggi nell'occasione fino a questo momento più importante perché siamo un campionato europeo e quali aspettative quali margini poi facciamo anche un passo indietro agli assalti che abbiamo visto se ne è stato uno in particolare contro l'estonia in cui credo che di poter dire che siete stati anche molto lucidi molto bravi nella lunga pausa che c'è stata a non perdere mai di vista l'obiettivo della vittoria no ma infatti diciamo che siamo praticamente tutti contenti magari tra un'oretta due ancora di più proprio perché questa è stata la prima medaglia di quest'anno e sappiamo che possiamo dare di più perché una staccata è veramente poco sì abbiamo gestito bene tutti gli assalti infatti per questo sono contento e poi la medaglia del terzo quarto era difficile per noi mentalmente anche perché dopo un assalto così non era facile e niente quindi cioè giustamente tra un'ora saremo più contenti di adesso jolly le medaglie passano a due due gare due medaglie ce n'è ancora altre due da fare quindi insomma non c'è male per adesso questo europeo delle soldi beh speriamo ovviamente di raddoppiare le medaglie con le prossime due gare e diciamo che nella gara squadre sono molto fiducioso perché la squadra cadete è molto forte nell'individuale la squadra sarà dura però so che lì possa arrivare in fondo in fondo quindi speriamo di riuscire a fare un miracolo jolly è molto diplomatico anche molto loguace avete 10 secondi a testa per le dediche comincia Filippo io dedico a tutti quelli che ci hanno fatto allenare in questo periodo di di covid e alla mia famiglia al mio club e al gruppo sportivo e dico famiglia club gruppo sportivo maestro tutti quelli che sono stati vicini in questo periodo simone allora io alla mia società ai miei genitori e chi ha creduto in me jolly tocca a te variare un po' il tema se no sono tutti copia in colla vai inventati una bella dedica allora io dedico questa medaglia e in primis a chiunque abbia si fatto per noi e poi anche alla mia famiglia e ai miei compagni di squadra che hanno fatto un ottimo lavoro e ovviamente a tutti gli istruttori gli insegnanti che mi hanno allenato e non ci resta anche da aggiungere che diciamo non è passato inosservato ieri le ragazze non hanno avuto la possibilità di prendere la medaglia sia di fioretto che di spada e diciamo che è un po' per loro anche perché le abbiamo viste molto giù però sono forti e si giocheranno le loro chance da anziano hai detto una cosa molto bella gli altri erano troppo coinvolti quindi hanno lasciato che lo dicessi di grazie ragazzi complimenti